Siamo qui in uno dei magnifici cortili del Festival Grotte Aperte, qui a Cesa, in provincia di Caserta. Siamo molto felici di aver vissuto questi due giorni con voi, però vorremmo sapere anche per voi come è stata questa esperienza e la partecipazione a questo progetto. L'esperienza è stata bellissima, conoscere persone speciali come voi, condividere le nostre tradizioni, le nostre culture, affinché non si perdano queste cose basidare del territorio, la vita, l'uva spina e tutto quanto. I ragazzi adesso sono lontani purtroppo, non si avvicinano perché non ci sono scuole, non ci sono formazioni e questo è quello che ci preoccupa, perché c'è tutto un lavoro articolato intorno alla vita, perché c'è la potatura, l'aggiustamento delle minuti, il salire sullo scalino, il trasportare è ancora più difficile. Noi cerchiamo di non perdere queste tradizioni, di portarla a condividere anche le altre attività, le altre regioni che sono ognuno al suo. Ecco, quindi ci auguriamo che questo progetto possa davvero aiutare tutti noi a essere più forti per il futuro di queste tradizioni. Spero, l'unione fa la forza. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza. Speriamo bene. Ok, ciao.